a numero che senza pesce, subito fornece vieni qua, guardi qua, lupini 2,56 vieni qua, tengo il cozzo, non sono cozzo, sono bomba a mano sono incinerato a me questi cozzini, guardi qua, dove mi si arriva un figlio guardi qua, è bomba a mano, ora si chiama tutto qua, 8 euro a parte vieni con me, facciamoci questo panorama, guardi qua, vengono a me, guardi qua sempre bomba, è confetto, è confetto